Saccomodi in cabina, allora. E non potremmo andare solo lui? No, tocca a lei entrare in cabina, lei è il gioco. No, prego, prima lei, lei è più alto. Poi americano, prego. Prego, prego. Grazie. Io me vado a prendere un caffè? Ma no, ma vuoi me la dare in cabina, altro che caffè? Entri, entri, entri. Vatti, go. Ma sono un'idea. Il Ducca, scherzo. E la sera con lui è... Non lo mettetevi nei pubblici, ci sono due, una per ciascuno. C'è il microfono per rispondere e parlate forte, perché devo sentire bene la risposta, eh. Ma è il ritorno a spiegare. A me sa però me la paghi. La scuderia americana che ha dato il maggior numero di campioni Nelle corse disputate a Ciccola nel 2019. A me sa però me la paghi. A me sa però me la paghi.